Perchè non la entri dentro? Perchè non lo buttate, non lo buttate Cazzo diverso, ciao, scusa, ma ma queste copro diventano con i cellulari, si fanno sempre più piccoli Sto trovando, trasciniamo il schermo E poi dopo Poi dopo, diciamo una cosa A poco con... Ok, copro quello Ecco la cosa Ma questo è... A fuori A fuori No, in un'ora e mezza ce ne vanno qualche A fuori A fuori A fuori Comprane due, una che bella Dietro Anzi Valti 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 Grazie a tutti.